Una guerra in Libia sarebbe una catastrofe, sarebbe il nostro Vietnam. Se Gentiloni e Pinotti vogliono fare i Marines, si accomodino pure. Spenderemo i loro stipendi da casta per riparare qualche scuola, per bonificare qualche terreno nella terra dei fuochi o per pagare la benzina ai poliziotti. Perché la vera guerra, quelli che molti mezzi di comunicazione e tutte le forze politiche vogliono farci dimenticare, ce l'abbiamo qui in casa e non in Libia. Grazie.